Ciao a tutti in questi giorni che si avvicinano le feste di Natale e ci servono tante ricettine semplici per cucinare il pesce. Oggi facciamo le canocchie in padella. Le canocchie hanno un sapore, arricchiscono qualsiasi piatto di pesce. Voi provate a fare una zuppa di pesce e non mettete le canocchie. Non sa praticamente di nulla. Questo è un crostaggio straordinario per i primi piatti fatto al forno, gratinato, ma è buonissimo. Anzi forse è la ricetta che preferisco proprio saltato diciamo in padella con un po' di limone condito. È davvero molto molto buono e in questo modo come vi dicevo si esalta il sapore. Chiaramente per mangiarlo con comodità andiamo a pulire tutte le estremità taglienti perché è molto antipatico altrimenti da mangiare e andiamo anche a tagliare con le forbici lungo il carapace. Avete visto come ho fatto? In modo che poi una volta cotto tu apri il carapace sulla parte superiore e sfili con molta comodità la polpa diciamo la parte quella davvero succosa e buonissima da mangiare. Semplici semplici li facciamo. Questi non vanno coperti da sapori forti. Sale, pepe, succo di limone e ci mettiamo un pochina di salsa di soia. Quella avete mai visto quando prendete il sushi? Ce ne sono due tipi di salsa di soia. Una è salata, una no. Io uso quella non salata in modo che non vada a caricare troppo di sale. Comunque è un ingrediente che dobbiamo iniziare un pochino a tenere in casa e a sperimentare nelle nostre ricette tradizionali perché spinge molto il sapore e ci sta davvero benissimo. Una volta cotte saranno sufficienti dieci minuti di cottura ma perché queste mie sono belle grosse vedete altrimenti anche meno. Un pochino di prezzemolo fresco. Facciamo restringere semmai il sughetto che ha fatto in padella e siamo pronti per andare in tavola. Semplici, buonissime e si fanno in dieci minuti. Arrivederci al prossimo video. Un abbraccione. Grazie a tutti.